Valorizzare la musica bellunese inedita non è assolutamente cosa impossibile, basta avere una fotocamera con la possibilità di fare video di medio alta qualità, facciamo a media, un buon telefono cellulare o per tutti gli appassionati una videocamera. Andate a vedere il concerto del vostro gruppo preferito, fate una registrazione di circa 3 minuti e poi collegatevi al sito www.rockbelluno.it. Cercate la sezione dedicata a Night and Day e diventate anche voi reporter della nostra trasmissione testimoniandoci il grande fermento musicale che c'è tra le band bellunesi. Ecco il video che abbiamo sentito, che abbiamo visto questa settimana insieme ai ragazzi della community di Rock Belluno. Ciao Giorda, questa sera andiamo a vedere Smoke Circle, Logical Terror e Outsider. Cercate la sezione dedicata a tutti gli appassionati a tutti gli appassionati. Come on! Ciao Giorda, questa sera andiamo a vedere! Come on! Come on! Come on! Come on! Come on! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.